Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. Allora, il primo giorno di scuola è andato molto bene, è stato ben accolto, i ragazzi sono stati bene accolti da questo evento conclusivo della manifestazione Scuola Viva. Avevamo tante attività da mostrare a questi ragazzi nuovi iscritti che con tanta voglia di intraprendere questo nuovo corso di studi hanno partecipato. Si sono avvicendati in palestra, in Aula Magna e nel cortile antistante dell'edificio 2 per questa manifestazione molto particolare perché i ragazzi che hanno partecipato a questo percorso di Scuola Viva lo scorso anno scolastico hanno prodotto, hanno mostrato i loro prodotti con uno spettacolo teatrale, dei video prodotto di questa manifestazione, di questi vari percorsi e in palestra chiaramente hanno assistito alle esibizioni dei ragazzi. Certo, sicuramente noi siamo molto contenti di questi risultati perché ciò significa che comunque lavoriamo bene e lavoriamo insomma in sinergia. Il nostro punto di forza è il teatro classico e i risultati raggiunti quest'anno sono stati sicuramente dei risultati positivi e quindi questo vuol dire che comunque al Manzoni si lavora bene e siamo contenti. Grazie. Grazie.